Musica Riprendono sbarchi di migranti in Calabria, a Roccella, soccorso barchino con 38 persone a bordo. Dopo alcuni mesi di tregua, sono ripresi in Calabria, in particolare modo al porto di Roccella Ionica, nella Locride, gli sbarchi di migranti. Nel corso della notte scorsa, nello scalo portuale Regino, al termine di un'operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia Costiera, sono giunti a destinazione 38 migranti di nazionalità bengalese. Tutti i profughi approdate al porto di Roccella Ionica sono di sesso maschile e tutti sono maggiorenni. Prima di essere soccorsi trasbordati su una delle motovedette della Guardia Costiera di Roccella Ionica e condotti in sicurezza fin dentro il porto Regino, i migranti si trovavano a bordo di una piccola barca in vetroresina di circa 6 metri, localizzata sempre nello specchio di mare Ionio, della Locride, a circa 30 miglia a largo di capo Spartivento. Da quanto è emerso dalle prime verifiche fatte dalle forze dell'ordine, dopo l'arrivo a Roccella Ionica, i 38 migranti sarebbero partiti dalla costa della Libia, circa 5 giorni prima di essere intercettati a largo della costa della Calabria, dalla Guardia Costiera. Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti a visita medica e successivamente su disposizione della prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati in una tensa struttura, realizzata tempo fa all'interno del porto Roccellese e gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da un'equip di medici senza frontiere. Incendiati due automezzi a un consigliere comunale di Amantea, indagini. Distrutti dalle fiamme, l'automobile è un furgone di proprietà del consigliere comunale di Amantea, Salvatore Campanella. Campanella è consigliere comunale con derega al turismo e grandi eventi della cittadina del Tirrenoio-Sosentino, nella notte tra venerdì e sabato il fuoco ha distrutto i due mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della compagnia di Paola che hanno avviato le indagini. Immediata la condanna dei vile gesto da parte dell'amministrazione comunale, il consigliere Campanella ha scritto in una nota il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, non è e non sarà mai solo. Assieme a lui c'è l'intera amministrazione comunale e il sindaco della città che condannano con forza il vero simile e ignobile atto di violenza ai suoi danni. Siamo certi che le forze dell'ordine che sosteniamo con grande convinzione e con le quali c'è una continua e proficua collaborazione dall'inizio della consigliatura sapranno individuare e assicurare alla giustizia, sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria, gli autori del gravissimo gesto, i quali, scrive il sindaco, con la loro vigliacca e violenta azione ai danni di un uomo delle istituzioni, provano a minare non solo il percorso di normalizzazione e sviluppo di Amantea che stiamo portando avanti tra mille difficoltà, ma anche la serenità della nostra città che è culla di civiltà e democrazia. Detenuto aggredisce medico in ospedale e comandante penitenziaria Paola. Aggredito un medico dell'ospedale di Paola, poi ricondotto in carcere, ha rifiutato per ore di rientrare in cella e infine ha aggredito il comandante della polizia penitenziaria. E quanto avrebbe fatto un detenuto nel carcere di Paola? Nella prima serata, riferisce Salvatore Panaro, vice segretario regionale per la Calabria del sindacato autonomo della polizia penitenziaria, un detenuto ha dichiarato alla polizia penitenziaria di aver ingerito la mette da barba e la testa dello spazzolino da denti. L'uomo è stato visitato dal medico interno alla struttura che ne ha proposto l'urgente invio in ospedale, dove a seguito di accertamenti radiologici gli è stata accertata la presenza di corpi estranei nello stomaco. Ma nel corso della visita il detenuto, che probabilmente è affetto da patologia psichiatrica, ha aggredito il medico del 118 con pugni e solamente l'intervento del personale di polizia penitenziaria di scorta ha evitato il peggio. Con fatica si è riusciti a ricondurre in carcere l'uomo in attesa della programmazione dell'intervento di rimozione previsto per oggi. Ma appena giunto in carcere, evidenzia il sindacalista, ha vandalizzato beni dell'amministrazione penitenziaria e rifiutandosi di entrare in cella per ore. Nel primo pomeriggio lo stesso detenuto era in attesa di essere trasferito nuovamente in ospedale e senza motivo, ma palesando la sua indole aggressiva, ha di nuovo sfondato beni dell'amministrazione e preso a pugno il comandante di polizia penitenziaria facente funzioni. È stato necessario nuovamente l'intervento degli agenti per bloccarlo. Donato Capece, segretario generale del SAP, denuncia che la situazione nel carcere di Paola e nelle altre carceri calabresi è allarmante. Il personale è sempre meno, anche a seguito di questi eventi ormai all'ordine del giorno. Prevediamo un'estate di fuoco se non si prenderanno immediatamente provvedimenti concreti e risolutivi. Il personale è allo stremo e pur lavorando più di 10-12 ore al giorno non riesce più a garantire i livelli minimi di sicurezza. Fino a quando potrà reggere questa situazione? Non è più rinviabile, conclude il leader del SAP, dotare al più presto anche la polizia penitenziaria, del TESER e di ogni altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato. Viola divieto di avvicinamento e aggredisce moglie e suocera a Vibo, arrestato. Si è recato a casa nonostante il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto e una volta all'interno ha aggredito moglie e suocera procurando loro lessioni, giudicate e guaribili in un mese. Per questo un uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vibo Marina per aver violato il provvedimento cui era sottoposto. La vicenda ha avuto origine in settimana. Nonostante il divieto in atto, l'uomo è andato a casa della moglie facendosi aprire la porta dalla figlia. Una volta all'interno avrebbe aggredito suocera e moglie. L'intervento dei carabinieri è stato immediato. La pattuglia è giunta sul posto procedendo all'arresto del presunto autore per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalle persone offese. L'uomo è stato rintracciato poco distante dal luogo dell'aggressione. L'arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il procuratore della Repubblica di Vibo Valencia, Camillo Falvo, che ha dato disposizione alle forze di polizia durante alcune conferenze in tema di codice rosso e tutela delle vittime vulnerabili, è scritto in una nota dei carabinieri, ha voluto sottolineare l'importanza dell'operato dei militari della stazione di Vibo Marina, il cui intervento tempestivo ha permesso di assicurare alla giustizia un individuo pericoloso, garantendo la sicurezza alle vittime. Traffico di droga tra Spagna e Calabria, arrestato alla Mezzia, ha presunto spacciatore. I finanziari del Comando Provinciale di Catanzara hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ufficio GIP Group di La Mezzia Terme, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, alla sede nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di essere dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento giudiziario costituisce l'epilogo di complesse indagini di Polizia Giudiziaria, svolte dal gruppo della Guardia di Finanza di La Mezzia Terme tra il mese di ottobre 2022 e il mese di giugno del 2023. Le attività investigative ebbero origine a seguito di una segnalazione pervenuta alla Guardia di Finanza inviata dal Servizio di Vigilanzia a Due Nera, spagnolo, che aveva informato di aver sequestrato in data 18 febbraio 2022 un pacco destinato in Italia rinvenuto il giorno precedente dal personale di sicurezza di una ditta di trasporti di Caslada, Madrid, contenente 3 kg di sostanza stupefacente, cocaina, hashish e MDMA. I riferimenti di mittente e destinatario tuttavia non consentivano di individuare immediatamente i soggetti interessati dalla spedizione, ma i finanzieri sono comunque riusciti a individuare nel destinatario dell'ordinanza il mittente e nel di lui figlio colui il quale avrebbe dovuto ricevere il pacco. Sono state quindi avviate le opportune indagini sotto il coordinamento del procuratore della Repubblica di La Mezzia Terme, dalle quali è emerso che il soggetto tratto in arresto si riforniva stabilmente di droga dalla Spagna e nel dicembre del 2022 le fiamme gialle, dopo aver monitorato un suo viaggio a Madrid, al suo rientro lo sorprendevano con oltre un chilogrammo di marijuana. Nell'ambito dello stesso procedimento penale sono altri sindagati, altri due soggetti per il reato di spaccio e tre persone, acquirenti di stupefacenti presso la persona sottoposta a misura cautelare per favoreggiamento personale in quanto queste ultime chiamate dalla Guardia di Finanza a riferire sui loro rapporti con il presunto pusher si rifiutavano di rispondere alle domande aiutando in tal modo gli indagati a deludere le indagini svolte nei loro confronti. Nel corso delle attività investigative tra la Spagna e l'Italia sono stati sequestrati complessivi chilogrammi 2,553 di marijuana, 71 grammi di cocaina e 16 grammi di ascisce, pasticche di ecstasi per circa 30 grammi. Il sopraccitato servizio rientra tra le attività di controllo economico-finanziario del territorio orientate al contrasto degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti. Il relativo procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. Detenzione, sostanze stupefacenti e arma clandestina arrestato 22enne a Vena di Maida. I carabinieri della stazione di Maida coadiuvati dal nucleo cinofili di Vibo Valencia durante predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti e armi hanno arrestato un soggetto 22enne incensurato residente nella frazione Vena di Maida siccome sorpreso nella fragrante illecita detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e di un'arma clandestina. Il relativo procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. Ad estare i sospetti dei militari è stato un via vai di giovani ad ogni ora del giorno anomalo e continuo dell'abitazione dello stesso al seguito quindi di accurati controlli personali e domiciliari il giovane è stato trovato in possesso di 1125 grammi di marijuana in parte suddivisa in dosi quasi un grammo di hashish tre spinelli vario materiale da confezionamento e due bilancini di precisione perfettamente funzionanti. Inoltre lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 marca Walter con matricola a brasa e completa di sette munizioni. Si è proceduto quindi al suo arresto in flagranza con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo gli adempimenti di rito lo stesso è stato condotto presso il carcere di Catanzarossiano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cosenza nascondeva in casa arma clandestina arrestato un 49enne Nascondeva in casa una pistola revolver Colt calibro 32 con matricola brasa per questo motivo è stato arrestato un 49enne nel Cosentino l'arma è stata rinvenuta in buono stato d'uso con caricatore contenente sei cartucce i carabinieri della compagnia di Cosenza hanno fermato l'uomo nel corso di un'attività di controllo durante un posto di blocco e l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare poi i controlli sono proseguiti nella sua abitazione nel comune di Mendicino nell'Interland di Cosenza lì i militari hanno trovato l'arma comune da sparo con matricola brasa e relativo munizionamento la pistola è stata sequestrata e sottoposta ai controlli del caso e l'uomo è stato portato in carcere sequestrato un fucile a canne mozze sotterrato in un podere nel Vibonese un arresto nel corso di mirati servizi della polizia di stato dedicati al contrasto del traffico di armi clandestine poliziotti della squadra mobile di Vibo Valencia hanno sottoposto a perquisizione personale locale una persona sospettato di detenere armi presso un terreno nella sua disponibilità gli investigatori con l'ausilio di personale dell'unità cinofila dell'UPGSP della Questura si sono quindi recati nella prima mattinata presso un casolare sito in San Gregorio di Ippona in uso al sospettato e da questi adibito all'allevamento domestico di animali e al ricovero di attrezzi da lavoro dopo aver perquisito tutti i locali del sito gli uomini della squadra mobile non demordendo nella ricerca hanno iniziato a controllare se delle armi da fuoco potessero essere state interrate nel pertinente fondo posto che lo stesso in alcuni punti presentava degli elementi di discontinuità si è proceduto quindi ad operare delle scavazioni sia manualmente che con l'ausilio di personale dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valencia fatto intervenire in ragione della vastità dell'area con mezzo meccanico attrezzato per l'escavazione è così che a circa un metro di profondità è stato rinvenuto un involucro metallico tipo canna fumaria abilmente sigillato al cui interno era stato occultato un fucile canne mozze e svariate cartucce dello stesso calibro l'alterazione dell'arma attraverso l'accorciamento delle canne è una pratica comunemente utilizzata per realizzare una maggiore occultabilità o una facilità di uso o di porto sulla scorta di quanto emerso dall'attività di polizia giudiziaria e sferita sotto il coordinamento della procura della repubblica di Vibo Valencia l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e dopo la convalida è stato sottoposto alla misura cautelare dall'obbligo di dimora con obbligo di permanenza domiciliare dalle ore 21 alle ore 6 nonché l'obbligo di presentazione quotidiana all'ufficio di polizia giudiziaria competente per territorio Operazione Icaros la Corsa d'Appello conferma e ridetermina la sentenza di primo grado La Corsa d'Appello di Catanzaro conferma e ridetermina la sentenza di primo grado per i 10 imputati dell'operazione Icaros di questi 9 sono stati condannati a un assolto dal Tribunale di Crotone il 15 luglio 2022 collegio giudicante della terza sezione penale composto dal Presidente Antonio Battaglia e consiglieri Paola Ciriaco e Barbara Sacca l'operazione scattata il 17 febbraio 2021 con 24 arresti eseguiti dalla polizia ha disarticolato due ipotizzati gruppi criminali formati da avvocati mediatori culturali interpreti e funzionari pubblici ritenuti responsabili di aver lucrato illecitamente sulle pratiche per la protezione internazionale concessa agli stranieri Salvatore Andrea Falcone 5 anni e 6 mesi di reclusione condannato in primo grado a 10 anni e 2 mesi di carcere Irene Trocino confermata a 5 anni e 4 mesi Gabriella Panucci 4 anni e 6 mesi e 16 giorni e 16.250 euro di multa in primo grado 4 anni e 8 mesi e 15 giorni e Sergio Trolio confermata a 4 anni 3 mesi e 15 giorni i mediatori Rachida Lebgaki 4 anni e 6 mesi di reclusione in primo grado erano 6 anni Inzar Ahmed confermato a 1 anno e 6 mesi Castro Abdul Ahmed Mohamed Mohamed confermato a 4 anni e 8 mesi Ed Edris Mamud Zade 4 anni di reclusione e 14.000 euro di multa e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni in primo grado 4 anni e 15 giorni il vigilo urbano Alfonso Bernardis confermato a 9 mesi e il poliziotto Roccomeo sono assistiti dai legali Gregorio Viscomi Giovanni Allevato Mario Nigro Nunzio Raimondi Nicotera Esce Vincenzo Cardone Vincenzo Ioppoli Francesco Verri Aldo Truncè Giuseppe Nicotera Mario Germinara Nicola Rendace Controlli alla Fiera Mariana a Crotone applicate multe e sequestrata droga Controlli alla Fiera Mariana a Crotone predisposti dalla Questura per rilevare eventuali regolarità nello svolgimento delle attività da parte degli espositori sia della squadra mobile che dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per contrastare lo spaccio di stupefacenti e la commissione di reati in genere la squadra amministrativa impegnata nel controllo dei banchi dei venditori di prodotti ha accertato la collocazione abusiva di due strutture per la vendita di prodotti di genere alimentare al di fuori degli stalli predisposti occupando il solo pubblico per cui i rispettivi titolari peraltro sprovvisti della relativa autorizzazione comunale sono stati sanzionati e contestualmente è stata disposta la rimozione delle bancarelle nei medesimi luoghi l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti ha consentito di procedere al sequestro di 18 grammi di hashish nonché di due dosi di cocaina per cui le tre persone trovate in possesso della droga detenuta per uso personale sono stati segnalati al prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste tentata estorsione a un imprenditore portuale a Catanzaro in tre a processo saranno giudicati con il rito abbreviato i tre uomini accusati della tentata estorsione al porto di Catanzaro Lido arrestati a gennaio scorso dai poliziotti della squadra mobile della questura di Crotone che hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro su richieste della procura della Repubblica di Catanzaro direzione distrettuale antimafia di Catanzaro la procura infatti aveva chiesto il giudizio immediato per Antonio Carvelli 75 anni di Isola Capo Rizzuto Luigi Foschini 72 anni di Crotone e Luigi Mendicino 48 anni di Crotone l'attività investigativa delegata alla squadra mobile della questura di Crotone avviata nell'estate del 2023 consentì di delineare l'ipotesi accusatoria secondo la quale i tre avrebbero in essere la condotta contestata ai danni di un imprenditore attivo nel settore portuale e marittimo impegnato nella realizzazione dei pontili e della banchina presso il porto di Catanzaro Lido Reesco 2024 esercitazione internazionale della protezione civile nelle preserre e nel Soveratese si è svolta nei giorni scorsi un'esercitazione internazionale di protezione civile nominata Reesco 2024 nei territori dei comuni di Soverato Badolato e Torre Ruggero dove sono state simulate situazioni relative a eventi sismici e recupero di feriti in ambienti impervi utilizzando elicotteri e altre strutture idonee l'esercitazione organizzata dell'Edelweiss ha registrato la presenza di molte associazioni nazionali ed internazionali specializzate nel soccorso tra queste Malta Grecia Portogallo Spagna Ungheria Regno Unito Inghilterra USA Regno Unito Irlanda del Nord Serbia Regno Unito della Scozia Repubblica Ceca e Germania Molto importante è anche la partecipazione della Croce Rossa Italiana Comitato Bastoglioni Catanzarese il Comitato con sede a Badolato nelle operazioni sanitarie è stato coadiuvato dalla preziosa collaborazione del Comitato Croce Rossa Italiana di Monasterage numerose le autorità presenti a cominciare da Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro Enrico Ricci accompagnato dai comandanti delle Compagnie dei Carabinieri Capitano Colì Marco e dalla Guardia di Finanza Capitano Di Matteo Denise e i comandanti delle locali stazioni dei Carabinieri Le operazioni di salvataggio sono state supportate da un elicottero della Guardia di Finanza con a bordo un gruppo di cinofeli e speriologici e all'uso dei droni per l'individuazione di eventuali feriti Molto soddisfatta la dottoressa Elda Naggero Presidente regionale della Croce Rossa Italiana Calabria che ha visitato i comuni sedi dell'esercitazione La dottoressa Naggero ha ricevuto i complimenti del prefetto per l'attività svolta dai volontari della Croce Rossa Italiana soddisfazione anche per il professore Pasquale Pipicelli responsabile di Edelweiss che ha messo in piedi l'organizzazione della giornata esercitazione esercitazione di questa portata riferisce Pipicelli rappresentano lo sforzo congiunto in un'ottica di regolamentazione europea di varie nazioni che si uniscono e sostengono vicendevolmente in caso di calamità l'Italia e la Calabria in particolare sono zone a forte rischio sismico e non vogliamo essere pronti a qualsiasi emergenza allo stesso modo siamo pronti per fornire il nostro aiuto agli altri paesi che ne avessero malauguratamente bisogno gli interventi di oggi hanno messo in luce i punti di forza del soccorso e permettono alle squadre interessate di migliorare laddove si sono palesemente eventuali criticità intelligenza artificiale 10 domande vediamo il video di francesco pungitore per stare al passo con il cambiamento tecnologico in atto è indispensabile immergersi nell'uso quotidiano dei principali modelli di intelligenza artificiale la pratica costante rappresenta quindi un elemento cruciale per comprendere non solo il funzionamento di queste tecnologie ma anche la loro effettiva utilità nel nostro quotidiano cioè questi sistemi sono progettati per migliorare l'efficienza delle nostre attività che spaziano dalla scrittura di mail alla stesura di relazioni complesse fino alla creazione di contenuti multimediali quindi sperimentare con le diverse applicazioni ci permette di scoprire nuove opportunità per ottimizzare il nostro lavoro e ridurre il tempo impiegato in compiti ripetitivi ad esempio utilizzare assistenti virtuali per la gestione della posta elettronica può aiutarci a rispondere più rapidamente in modo più organizzato mentre gli strumenti di elaborazione del linguaggio naturale possono supportarci nella produzione di documenti di qualità consentendo quindi di concentrarci su aspetti più strategici e creativi del nostro lavoro oltre alla pratica è fondamentale però restare aggiornati sulle ultime novità partecipare a webinar corsi conferenze dedicata all'intelligenza artificiale è un modo efficace per acquisire nuove competenze e conoscere gli sviluppi più recenti poi ovviamente la lettura di articoli riviste blog ci aiuta a mantenere una visione aggiornata e critica sui progressi del settore inoltre interagire con comunità di esperti di appassionati può offrire spunti e suggerimenti su come affrontare al meglio queste tecnologie ci sono piattaforme online ad esempio forum specializzati che rappresentano risorse inestimabili per condividere esperienze e apprendere delle buone pratiche anche da altri professionisti quindi in definitiva stare al passo con il cambiamento tecnologico richiede un approccio continuo all'apprendimento e alla sperimentazione solo così si possono cogliere a pieno i vantaggi offerti dall'intelligenza artificiale e quindi integrarla efficacemente nelle nostre attività quotidiane trasformando il cambiamento tecnologico in un'opportunità di crescita e di innovazione le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale stanno sicuramente trasformando in modo radicale molti settori con alcune delle più promettenti innovazioni visibili soprattutto in medicina e nella nostra vita quotidiana in ambito medico ad esempio l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie e nella riduzione degli errori clinici pensiamo attraverso l'analisi di grandi quantità di dati gli algoritmi possono identificare i cosiddetti pattern e quindi prevedere anche precocemente malattie come il cancro le malattie cardiache e quindi ciò migliora significativamente le possibilità di trattamento efficace inoltre l'intelligenza artificiale supporta i medici nelle diagnosi nel processo decisionale riducendo il margine di errore umano i sistemi di intelligenza artificiale possono ad esempio analizzare immagini radiologiche con una precisione che spesso supera quella umana fornendo un parere che contribuisce a produrre una diagnosi più accurata e tempestiva se ci spostiamo poi alla nostra quotidianità strumenti come il chat gpt stanno rivoluzionando vari ambiti in particolare penso al campo dell'educazione queste tecnologie supportano i progetti di inclusione scolastica offrendo assistenza personalizzata agli studenti con difficoltà di apprendimento o bisogni speciali l'intelligenza artificiale può adattare i materiali didattici a quelle che sono le esigenze individuali e fornisce spiegazioni supporto in tempo reale nel settore del marketing l'intelligenza artificiale analizza enormi quantità di dati per identificare tendenze comportamenti e permette quindi alle aziende di creare campagne mirate più efficaci questo aspetto non solo migliora il ritorno sugli investimenti pubblicitari ma consente anche di offrire ai clienti esperienze più personalizzate inoltre tutto ciò è fondamentale per prendere le cosiddette decisioni informate in tempo reale migliorando l'efficienza operativa e la strategia aziendale infine il servizio clienti l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando l'interazione tra aziende e consumatori chatbot e assistenti virtuali come quelli basati su chat GPT sono in grado di gestire un'ampia gamma di richieste fornendo supporto immediato e accurato con soddisfazione sia del cliente che con la possibilità di liberare poi risorse umane per compiti più complessi e strategici diciamo che la scuola italiana sta affrontando il cambiamento tecnologico con una notevole resilienza usiamo questo termine questo è un processo di adattamento ed è guidato principalmente dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici che si stanno dimostrando davvero proattivi nel rispondere alle nuove sfide nel cercare di integrare le tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale nelle pratiche didattiche quotidiane dal basso vediamo molti esempi di insegnanti che nonostante le limitate risorse e le difficoltà logistiche si impegnano a sperimentare nuove metodologie didattiche tanti docenti stanno valorizzando l'uso di strumenti di intelligenza artificiale per personalizzare l'apprendimento supportare gli studenti con bisogni speciali migliorare l'interazione in aula la capacità di adattarsi e di trovare soluzioni innovative dimostra quindi una forte volontà di preparare gli studenti alle sfide del futuro e anche i dirigenti scolastici devo dire stanno giocando un ruolo cruciale in questa trasformazione promuovendo iniziative di formazione per il personale incoraggiando anche l'adozione di nuove tecnologie tuttavia lo devo dire vedo una disconnessione tra l'impegno di insegnanti e dirigenti scolastici da una parte e le politiche educative promosse dall'alto cioè le istituzioni governative spesso si concentrano più su aspetti burocratici come i famosi concorsi e crocette che non rispecchiano le reali esigenze formative nelle competenze richieste per insegnare in un mondo sempre più complesso e digitale per colmare questo divario sarebbe auspicabile un maggiore investimento in formazione specifica per i docenti sulle tecnologie emergenti e un aggiornamento che includa un approccio più pratico direi orientato alle competenze le istituzioni scolastiche dovrebbero ricevere supporto per sviluppare infrastrutture tecnologiche adeguate per implementare programmi educativi che preparino realmente gli studenti al futuro quindi è necessario un allenamento a mio avviso tra le politiche educative e le esigenze pratiche del sistema scolastico per garantire quindi che l'adozione di intelligenza artificiale e non solo avvenga in modo efficace e sostenibile il cambiamento tecnologico in atto ci porterà verso un mondo del lavoro sicuramente radicalmente trasformato l'introduzione di nuove tecnologie in particolare l'intelligenza artificiale sta ridefinendo i confini delle professioni e dei settori creando quindi nuove opportunità ma anche nuove sfide una delle conseguenze più evidenti sarà sicuramente la necessità di adattamento i lavoratori dovranno cioè acquisire nuove competenze per rimanere competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione l'apprendimento continuo diventerà una componente essenziale delle carriere professionali poiché le tecnologie emergenti richiedono competenze specifiche che spesso non sono ancora parte integrante dei percorsi educativi tradizionali accanto a queste opportunità ci saranno inevitabilmente anche dei rischi molti lavori tradizionali potrebbero essere automatizzati con conseguente perdita di posti di lavoro in alcuni settori questo impone un impegno significativo da parte delle istituzioni e delle aziende per garantire che chi rischia di trovarsi tagliato fuori dal mercato del lavoro abbia accesso a programmi di riqualificazione e di ricollocamento il welfare quindi dovrà adattarsi a queste nuove realtà sarà necessario sviluppare politiche di sostanza un impegno non solo che aiutino economicamente chi perde il lavoro ma che offrano anche percorsi di formazione e di riqualificazione professionale l'obiettivo quale sarà dovrà essere quello di creare un sistema di protezione sociale che accompagni i lavoratori nella transizione verso nuove opportunità lavorative piuttosto che limitarsi a misure di sostegno temporaneo inoltre le aziende stesse avranno un ruolo fondamentale in questo processo investire in formazione continua per i propri dipendenti non sarà più una scelta ma una necessità strategica questo cambiamento tecnologico ci porta quindi verso un futuro in cui l'adattabilità e la capacità di apprendere nuove competenze saranno determinanti sì le questioni etiche di privacy legate all'intelligenza artificiale sono fondamentali stanno ricevendo l'attenzione necessaria specialmente in Europa l'Unione ha dimostrato una discreta lungimiranza in questo campo sviluppando normative e linee guida per garantire che lo sviluppo e l'implementazione dell'intelligenza artificiale rispettino i diritti fondamentali e la sicurezza dei cittadini il regolamento generale ad esempio sulla protezione dei dati è un esempio significativo di come l'Europa stia cercando di affrontare le problematiche legate alla privacy questo regolamento stabilisce regole rigorose per la raccolta l'uso la protezione dei dati personali ponendolo accento sul consenso informato e sulla trasparenza tuttavia ci troviamo di fronte a una sfida complessa cioè mentre ci si concentra sulla tutela dei diritti e della sicurezza rischiamo di rimanere indietro in termini di competitività e di investimenti rispetto ad altre nazioni del mondo come gli Stati Uniti la Cina che stanno avanzando rapidamente nello sviluppo delle nuove tecnologie il rischio è che l'Europa possa diventare un utilizzatore passivo di tecnologie sviluppate altrove perdendo quindi la capacità di innovare autonomamente di guidare il processo in atto per evitare questo scenario è fondamentale trovare un equilibrio tra la protezione dei diritti e l'innovazione questo significa aumentare gli investimenti nella ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale sostenere le start up creare un ambiente favorevole alla sperimentazione all'adozione di nuove tecnologie e poi è importante che le politiche europee promuovano la cooperazione internazionale lo scambio delle conoscenze cioè collaborare con altri paesi e partecipare a progetti di ricerca congiunti può accelerare il progresso tecnologico e garantire che l'Europa mantenga un ruolo di primo piano nello sviluppo di queste nuove tecnologie la singolarità tecnologica è un concetto che si riferisce a un punto ipotetico del futuro in cui l'intelligenza artificiale supererà quella umana portando a un cambiamento radicale quindi imprevedibile nella società questo concetto ha suscitato dibattiti accesi tra filosofi e scienziati ma non solo tra i più noti a esprimere preoccupazioni c'è Nick Bostrom che ha esplorato indagato i potenziali rischi esistenziali legati allo sviluppo di una intelligenza artificiale superintelligente le paure espresse da Bostrom e da altri filosofi non sono del tutto ingiustificate immaginare una superintelligenza che potrebbe agire al di fuori del controllo umano solleva questioni importanti riguardo alla sicurezza all'etica e non solo tuttavia non è necessario dividersi rigidamente tra catastrofisti da una parte e ottimisti dall'altra esiste una via di mezzo che può essere percorsa ed è un uso consapevole e responsabile di queste tecnologie un approccio equilibrato che implica il riconoscere sia i potenziali benefici sia i rischi e quindi è essenziale sviluppare queste tecnologie con una forte attenzione alla sicurezza implementando controlli regole per prevenire abusi o conseguenze indesiderate e questo significa coinvolgere esperti di vari campi dall'informatica alla filosofia dall'etica al diritto per assicurare che quindi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sia guidato da principi che tutelano il benessere dell'umanità è anche importante promuovere la ricerca su come prevenire questi scenari negativi investendo in soluzioni che garantiscono che queste tecnologie agiscano in modo allineato con gli obiettivi umani diciamo che la singolarità tecnologica rappresenta un argomento complesso e carico sicuramente di incertezze ma non dobbiamo necessariamente cadere nell'estremismo del catastrofismo da una parte o nell'ottimismo ingenuo dall'altro un approccio consapevole e responsabile può permetterci di sfruttare i benefici dell'intelligenza artificiale minimizzando i rischi l'osservatorio nazionale minori dell'intelligenza artificiale ha un ruolo fondamentale che si articola su diversi fronti la nostra funzione principale è quella di stimolo e di riflessione monitoriamo costantemente l'evoluzione delle tecnologie e il loro impatto sulle nuove generazioni quindi analizziamo le tendenze i rischi le opportunità che queste tecnologie presentano con un occhio attento alle tematiche etiche e sociali ma il nostro lavoro non si ferma qui siamo anche fortemente orientati verso una missione di formazione e di sensibilizzazione crediamo fortemente che sia essenziale educare i giovani non solo a utilizzare queste tecnologie ma soprattutto a comprenderne il funzionamento e le logiche sottese le nuove generazioni rischiano di essere semplici fruitori passivi delle innovazioni tecnologiche senza sviluppare una consapevolezza critica e una capacità di discernimento e invece necessari per navigare in un mondo sempre più digitale per questo motivo come osservatorio organizziamo attività formative rivolte ad esempio a studenti insegnanti famiglie proponiamo corsi che coprono vari aspetti dell'intelligenza artificiale iniziative meeting convegni come quello che terremo il prossimo 12 luglio a Torre di Ruggero l'obiettivo qual è? quello di fornire agli studenti ma ai ragazzi in generale agli adolescenti non solo gli strumenti necessari per comprendere e gestire queste tecnologie emergenti promuovendo una cultura della consapevolezza digitale opporsi al cambiamento tecnologico specialmente all'evoluzione dell'intelligenza artificiale e della robotica significa non comprendere la direzione verso cui il mondo sta andando e quindi rischiare di restarne completamente esclusi oggi nazioni e imprese private stanno investendo miliardi di dollari in queste tecnologie spingendo avanti la frontiera dell'innovazione con una rapidità senza precedenti oserei dire questi investimenti non sono casuali le tecnologie di intelligenza artificiale robotica stanno già trasformando settori chiave come la sanità la finanza i servizi ignorare quindi opporsi a queste innovazioni significa perdere opportunità significative e rischiare di diventare spettatori passivi di un cambiamento che sta ridisegnando il nostro mondo quindi adottare un atteggiamento di resistenza potrebbe portare a una stagnazione tecnologica e di conseguenza a un declino economico la storia ci insegna che i progressi tecnologici sebbene possano inizialmente essere destabilizzanti tendono a generare nuove opportunità quindi piuttosto che opporsi è cruciale trovare modi per integrare queste tecnologie in modo etico e responsabile quindi abbracciare il cambiamento non significa accettarlo passivamente è fondamentale essere proattivi nel plasmare il modo in cui queste tecnologie vengono sviluppate e implementate nel breve termine uno dei cambiamenti più significativi sarà certamente l'adozione diffusa degli agenti intelligenti si tratta di modelli avanzati di intelligenza artificiale che saranno in grado di gestire in autonomia compiti complessi come la pianificazione di viaggi la prenotazione di voli ad esempio degli hotel dei trasferimenti la gestione dei pagamenti è una capacità quindi che avranno questi sistemi di assumere compiti che generalmente noi svolgiamo nelle nostre attività quotidiane questo non solo ci consentirà di risparmiare tempo prezioso ma anche di migliorare l'efficienza in cui pianifichiamo un obiettivo un compito tuttavia l'implementazione di questi agenti intelligenti solleva inevitabilmente questioni legate alla sicurezza delle transazioni la gestione di dati sensibili delle informazioni finanziarie e personali e questo richiederà elevati standard di protezione per prevenire frodi e violazioni della privacy anche se queste preoccupazioni sono legittime credo che possano essere affrontate e superate con le giuste misure tecniche e normative l'adozione di tecnologie di criptografia avanzata ad esempio l'autenticazione a più fattori i sistemi di monitoraggio delle transazioni in tempo reale sono già in atto e garantiscono la sicurezza delle nostre operazioni online e certamente anche in tante che i consumatori siano educati sulle migliori pratiche per proteggere le loro informazioni personali e finanziarie quindi gli agenti intelligenti rappresentano una delle innovazioni che vedremo nel breve termine e hanno un potenziale cioè quello di trasformare radicalmente il modo in cui gestiamo una vasta gamma di attività e sebbene ci siano queste sfide legate alla sicurezza delle transazioni personalmente sono fiducioso che anche questi rischi possano essere superati con l'adozione di tecnologie di sicurezza avanzate e una nostra generale maggiore consapevolezza di consumatori ma in realtà l'idea stessa di un pensiero non organico ci chiama all'impegno filosofico l'introduzione di intelligenze artificiali che possono pensare cioè apprendere e prendere decisioni autonomamente pone questioni fondamentali fondamentali che vanno ben oltre la mera tecnica e tecnologia cambia l'ontologia cambia la metafisica cos'è l'essere se l'identità che abbiamo sempre associata al pensiero umano viene ora trasformata dall'irrompere di macchine capaci di pensiero e da un punto di vista filosofico l'emergere dell'intelligenza artificiale ci costringe a riconsiderare concetti profondamente radicati nella nostra comprensione del mondo la nozione di identità tradizionalmente legata all'esperienza e alla consapevolezza umana deve essere necessariamente rielaborata per includere entità non organiche e questo solleva interrogativi su cosa significhi essere un individuo in un mondo in cui le macchine possono avere forme di cognizione e di apprendimento inoltre l'intelligenza artificiale ci porta anche a riflettere su temi come l'anima la coscienza se le macchine possono simulare o addirittura sviluppare forme di consapevolezza dobbiamo chiederci quale sia la natura della coscienza stessa è un fenomeno esclusivamente biologico o può emergere anche in sistemi artificiali e queste domande ci portano al di là della semplice questione tecnica toccando aspetti fondamentali della filosofia e dell'etica pensate a un futuro in cui avremo robot androidi indistinguibili dagli esseri umani non solo nell'aspetto ma anche nelle capacità cognitive e interattive come cambierà la nostra percezione di noi stessi e delle nostre relazioni con queste entità saranno considerate esseri con diritti come definiremo il concetto di vita e di coscienza in un mondo popolato anche da esseri artificiali quindi la filosofia ha il compito di esplorare queste questioni di sfidare le nostre presunzioni e di fornire un quadro concettuale che ci aiuti a approcciarci a queste nuove realtà questo mio interesse ad esempio per l'intelligenza artificiale nasce proprio dalla consapevolezza che stiamo entrando in un'era in cui le nostre idee su cosa significhi essere umani e cosa significhi pensare sono destinate a trasformarsi radicalmente quindi un filosofo si occupa di intelligenza artificiale perché queste tecnologie ci costringono a rivedere i nostri concetti fondamentali di identità coscienza essere i nostri dogmi e quindi l'impatto dell'intelligenza artificiale va ben oltre l'ambito tecnico toccando le radici stesse della nostra comprensione del mondo e di noi stessi è un campo che richiede un profondo impegno filosofico per affrontare sfide etiche ontologiche e metafisiche grazie a tutti